dici di no e non è si fa è bella da fare salita è bella andare in su questa no in giù cazzo in su è bella è bella bravo 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 Grazie Ciao, grazie Sì, possiamo andare là dal bar della pianta Andarla dal pronti via Grazie, grazie, grazie 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 a tutti.